sapevamo che in una notte qualunque sarebbe giunta questa mezzanotte la mezzanotte in cui voi ci avete cercato e noi volevamo trovare voi ciò che è accaduto non è un caso voi non siete il sole quello che percepite dentro è l'inizio di una metamorfosi ma solo la vostra volontà mi renderà consapevoli di ciò che siete diventate voi non siete come eravate prima gatto